42 tappe, quasi 1000 km, il tracciato che si snoda attraverso le 20 foreste regionali e il parco dello Stelvio. Stiamo parlando di camminaforeste, il trekking è lanciato lo scorso anno da Airsaf per scoprire la biodiversità dei polmoni verdi presenti in Lombardia, i valori che rappresentano e trasmettono attraverso l'incontro con le persone che vi abitano, il loro lavoro, i loro prodotti, le buone prassi di gestione e le potenzialità di crescita. Quest'anno lo sguardo è rivolto alla storia, quella con la S maiuscola. Nel 2018, a cent'anni dalla conclusione della Grande Guerra, Airsaf propone con camminaforeste alcune occasioni per recuperare la memoria di un evento che ha cambiato il volto dell'Europa, riscoprendo insieme la bellezza del territorio lombardo, la sua cordiale ospitalità, la sua gestione, sottolinea la presidente di Airsaf, Elisabetta Paravicini. A piedi ci muoveremo fra trincee e presidi militari, tra piccoli musei e cimeli, spiega la presidente di Airsaf. Incontreremo persone ed esperienze, gusteremo ricordi, spettacoli, prodotti di quelle terre. Faremo memoria del nostro passato per crescere nel nostro futuro. Nel fine settimana appena trascorso, i partecipanti della camminaforeste erano in Vallentelvi lungo i percorsi tematici di Airsaf. Tre giornate di escursioni tra boschi e alpeggi, visitando trincee, fortificazioni e camminamenti della linea Cadorna. Dal 9 al 12 agosto l'importante iniziativa farà tappa in Valtellina. Si camminerà in Vallesina, suggestiva vallata che si trova sopra Delevio, e poi in Valgerola, terra ricca di tradizioni, a partire dalla produzione del bitto. Il trekking sarà condotto da un accompagnatore di media montagna e rivolto a escursionisti mediamente allenati e abituati a camminare in montagna. Sono necessari abbigliamento e attrezzature adeguati. Il percorso verrà effettuato anche in caso di pioggia, ma ovviamente sarà cura della guida a portare eventuali modifiche al programma in base alle condizioni meteo. Nel Parco dello Stelvio, fino alla 10 settembre, si potranno effettuare escursioni in aree significative per la memoria della Grande Guerra, Scorluzzo e Filon dei Mot, villaggio austriaco, strada militare svizzera, rese basse e rese alte.